Nel 1996 si diploma presso la Scuola di Tecniche dello Spettacolo di Mario Carotenuto e Claretta. Carotenuto su consiglio di Gastone Moschin. Conosce, in seguito, personalità del calibro di Leone Colonna e Rodolfo Sonego. Dopo aver lavorato in teatro, scrive e si produce lo spettacolo teatrale Autoscatto al Teatro delle Muse. Prosegue la carriera facendo diverse esperienze di cabaret. Nel locale romano, Fellini inizia anche a lavorare per il cinema. Apparendo come comparsa ma anche in piccoli ruoli nei film, La Grande Quercia, 1996, regia di Paolo Bianchini, Il Pesce Innamorato, 1999, ed Il Principe e il Pirata. 2001, regia di Leonardo Pieraccioni. Numerosi lavori in televisione. Dove debutta nel 1998 nella miniserie TV di Rai 1. Lui e lei, per la Rai 1 interpreta il ruolo storico del brigadiere Ghisoni nella serie TV Don Matteo. È presente in tutte le stagioni trasmesse dal 2000 al 2016. Tranne la quarta, è attore di fiction e partecipa a diverse trasmissioni televisive. Lavorando insieme a Nino Frassica. Nella stagione autunnale 2012 Dele Iene. Lavora da inviato a fianco di Nino Frassica come disturbatore durante le riprese di film e programmi televisivi, per poi proseguire in solitario dal 2014.